Noi abbiamo rimosso il termine che è fatto a molto tempo. Capito che voi volete farci fare sempre una polemica con Bonomi. È strano che lo dica lui, che una fabbrica con gli operai non ce l'ha. Noi lo inviteremo, se vuole incontrare gli operai, a venire insieme a noi. Noi continuiamo a sostenere che in questo momento sia necessario intervenire sulle politiche salariali e quindi aumentare i salari vista l'inflazione e sia necessario intervenire sul cuneo fiscale. Ricordo che noi lo abbiamo chiesto già sulla precedente finanziaria, ci abbiamo fatto uno sciopero generale sopra, ma la politica ha scelto cose diverse. Sui salari vorrei ricordare che ci sono salari da fame. Domani c'è uno sciopero dei lavoratori della vigilanza privata che prendono 4,60 euro l'ora. Rinnoviamo i contratti, recuperiamo il potere d'acquisto per i lavoratori, le lavoratrici e i pensionati.